Bitcoin si è spento. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane anche di più ragazzi, i mercati e le criptovalute si sono spenti. Si è bloccata la linfa che muove questo mercato, si è bloccato il mercato stesso, si è spento il fuoco che fa incrementare Bitcoin, che gli fa fare quei pump e anche quei dump a volte importanti, che sono però utilissimi ai traders per fare money. Succedendo quindi al mercato cripto è quando riprenderà la sua naturalezza, chiamiamola così, quindi il modo in cui tornerà a fare movimenti importanti che ci faranno ben sperare per i nostri rendimenti futuri, per le posizioni in holding ragazzi, per quello che è il futuro di questo mercato. Quando accadrà questa cosa? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video un po' fuori dal cuore, un po' special ragazzi, perché la situazione urge e quindi dobbiamo parlare di questa cosa, perché volevo condividere con voi una serie di riflessioni che sono secondo me importanti in questo frangente particolare di mercato addormentato e di fuoco spento. Questo atteggiamento di Bitcoin e dei mercati delle cripto ne parliamo oggi. Prima di andare nel vivo di questo video, ragazzi, vi chiedo però di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciandomi un pollicione in su per questi video e fatemi sapere quello che pensate nei commenti di quello che vi dirò oggi. Parleremo della volatilità, già ve lo accenno, vi spiegherò le caratteristiche della volatilità, che sono il motivo del perché Bitcoin sta facendo questi movimenti veramente ridicoli, in barra di congestione, in trading range, spenti senza fuoco. Perciò, ragazzi, fatemi sapere anche voi poi cosa ne pensate. Allora, perché i mercati delle cripto si sono spenti in questo frangente? Ragazzi, perché c'è un concetto della volatilità che si chiama volatilità persistente del mercato, quindi stampatevelo in testa, la persistenza della volatilità del mercato è il motivo per il quale il Bitcoin in questo momento sta soffrendo, sta facendo questa barra di congestione, sta facendo questa assenza di volatilità ed è bloccato sui suoi prezzi. Che cos'è il concetto della volatilità persistente? Significa che la volatilità è molto facile che sia simile un giorno dopo l'altro. Cioè, se la volatilità di un mercato è bassa, continuerà probabilmente ad abbassarsi anche il giorno dopo, perché la volatilità è persistente. Questo è un po' legato anche all'emotività del mercato, al concetto stesso dell'emotività, perché se una fase emotiva avviene di calma, chiamiamola così, in sostanza autoalimenta anche le emozioni del giorno dopo e quindi sono più rilassate anche le emozioni del giorno dopo, anche i mercati sono così. La volatilità dei mercati è persistente, questa è una cosa abbastanza risaputa ed è abbastanza significativa in termini statistici, quindi non è un'idea e basta ragazzi, è una cosa che vale anche su tutti i mercati finanziari, non soltanto sulle criptovalute. Se la volatilità è persistente, questo significa che man mano che la volatilità diminuisce, autoalimenta anche una riduzione di volatilità del giorno dopo e dei periodi successivi. E in sostanza, ragazzi, quello che succede al mercato è che si addormenta. Questo è il concetto della persistenza e della volatilità. Il concetto importantissimo che si accosta a quello della persistenza e che mi è molto caro per la mia natura di analista ciclico, ragazzi, la volatilità è anche ciclica. Questo significa che se la volatilità è ciclicamente al rialzo, allora si autoalimenterà una volatilità rialzista, quindi i mercati saranno sempre più volatili, fino alla famosa esplosione di volatilità che a volte avviene con dei minimi e dei massimi importanti, come esempio quello della bolla speculativa o quello del minimo di marzo della situazione Covid. Quindi la ciclicità in questo momento del Bitcoin e delle criptovalute è in una fase di volatilità ribassista, quindi sta completando in pratica la sua ciclicità al ribasso. E se lo accostiamo ciclicità più persistenza, eccovi la risposta perfetta a questa fase. E il motivo del perché il Bitcoin in questo momento è addormentato è esattamente dovuto al fatto che ha una volatilità ciclicamente in fase discendente e il concetto della persistenza della volatilità alimenta questa discesa giorno dopo giorno. Bene, a questo punto quindi abbiamo detto che la volatilità è così, il mercato si è addormentato, niente, chiudiamo tutto, spegniamo, off, game over e ce ne andiamo a casa. Non è così perché c'è anche un altro concetto di volatilità importante che dovremmo analizzare. Adesso vi farò vedere, ma spostiamoci sui grafici perché vi faccio vedere a livello grafico come avviene questo concetto della volatilità discendente e della persistenza della volatilità. Quindi tutti sui grafici ragazzi. Allora, ok, dietro di me il grafico di Bitcoin. Ok, facciamone, prendiamo, vi avevo preparato ecco l'altro grafico perché era a livello settimanale. E volevo farvi vedere una cosa importantissima. Allora, questo che avete qui è l'indicatore di Average True Range. Sarebbe uno degli indicatori di volatilità più utilizzato da quelli che sono gli investitori istituzionali. Io vi consiglio ovviamente anche di utilizzare questo indicatore di volatilità per le vostre strategie di trading. Lo spiego tantissimo nel corso di formazione It's Trading Time, che trovate il link in descrizione se volete avere idea del programma che ho sviluppato. E capirete anche che l'utilizzo dell'ATR, Average True Range, ATR, è molto importante per un investitore, molto importante per un trader. Non potete fare a meno di conoscere questo indicatore di volatilità, importantissimo. E vedete che in questo momento, ragazzi, intanto questi sono grafici weekly di Bitcoin contro dollaro Coinbase. Vedete in maniera abbastanza chiara come la volatilità di un mercato è ciclica, ragazzi. La vedete la ciclicità è una cosa abbastanza evidente, poi ovviamente ci sono le dovute oscillazioni, però ragazzi la volatilità è ciclica. Mi fermo qui con il disegno, ma neanche persistente abbiamo detto. Quindi questo significa che qui quando avviene un punto di flesso, per esempio, come è stato nel luglio del 2019, e la volatilità inizia la sua fase discendente ciclica e allo stesso tempo il concetto della persistenza la spinge, vedete, a ridursi giorno dopo giorno. Quindi è sia ciclicamente in fase di bassista, sia persistente giorno dopo giorno. Analizziamo la situazione di oggi, di questa fase. Dopo il picco avuto post marzo, che vedete qui anche disegnato nei mercati, la volatilità ha iniziato la sua fase ciclica discendente, ragazzi. Vedete? E la persistenza l'ha spinta sempre più in basso. Quindi il mercato ha iniziato la sua fase di riposo, in pratica il fuoco si è spento. Ma chiediamoci, ragazzi, dove può arrivare? Perché il problema è che i cicli sono cicli, quindi da una parte è vero che poi si addorbente, è vero che la persistenza spinge a dare continuità alla riduzione di volatilità. Ma è anche vero che a un certo punto il ciclo della volatilità inverte. Quindi a un certo punto, ragazzi, avremo probabilmente un'inversione di volatilità nuova per riprendere un nuovo ciclo. Quindi da una parte abbiamo la spiegazione del perché Bitcoin è in questa situazione, in questo momento, ma dall'altro abbiamo anche un'idea importante del fatto che non perdura nel tempo, ragazzi. Questa cosa non perdura. Vediamo, per esempio, la fine della bolla del mercato orso del 2018, che si è completato su questi livelli, vedete, di volatilità. Ha fatto gli ultimi rigurgiti, vedete, la fase ciclica si è ridotta fino a questi minimi di volatilità. Da qui in poi è iniziata una nuova fase ciclica, che è arrivata qui, poi ha riprovato questa fase e poi giù di nuovo. Però, ragazzi, sembrerebbe proprio che Bitcoin voglia puntare non a questi minimi, quindi non a questa fase di minimo di volatilità, bensì addirittura a questa fase qui in basso. Quindi a vedere questa continuazione di riduzione ancora per un po' di settimane, quindi altre due, tre. Io non ne sono tanto convinto, però è possibile che questa cosa, ragazzi, avvenga. Vi faccio vedere, ad esempio, mettendovi dei livelli orizzontali per farvi capire la differenza fra questi due livelli di aria. Quindi qui abbiamo un livello veramente, veramente basso e qui abbiamo il precedente. Ragazzi, allora questa asse non è quello giusto perché c'è anche l'RSI qui all'interno, quindi dovete guardare la volatilità sull'asse di sinistra. Quindi questo è l'RSI che adesso ho nascosto per non confondervi. Perciò questi sono i due livelli. Ragazzi, vedete che ancora la ciclicità di Bitcoin non è terminata perché non siamo arrivati a questo livello che magari potrebbe dare spazio a un rimbalzo oppure addirittura a questo più in basso che potrebbe dare spazio a un nuovo ciclo, un po' di periodo, un po' più lungo. Quindi in pratica quello che vi sto dicendo è che questa fase di riduzione di volatilità è spiegata da questo meccanismo che vi ho indicato in questo momento e il Bitcoin non ha ancora probabilmente terminato questa fase, quindi potrebbe ancora continuare questa fase di volatilità. Ma non sarà sempre così perché quando i mercati andranno di nuovo a inserirsi magari anche all'interno di questa fascia di volatilità potremmo magari assistere a delle reazioni, perché no, anche notevoli di incremento di volatilità. Vedete come gli indicatori di analisi tecnica, gli indicatori di trading che spesso utilizziamo spiegano in maniera consistente ogni fenomeno di quello che sta avvenendo e soprattutto ragazzi sono già stati studiate queste cose perché l'analisi tecnica è una materia antica anche se non antichissima e quindi ci consente appunto di dare queste informazioni a tutti, ci consente di analizzare questi ferroveri. Benissimo, siamo alla fine del video, concludiamo in maniera molto semplice. Volatilità si è ridotta, la fiamma si è spenta, in questo momento sì, a causa della persistenza di questa fase discendente di volatilità, ma si è spenta per sempre? Assolutamente no, quindi attenzione ragazzi perché il toro è sempre lì dietro l'angolo e speriamo di rivedere nuovi movimenti il prima possibile. Da un punto di vista di trading, che cosa deve fare il trader in questa fase? Ricordarsi che la volatilità è nemica, scusate ragazzi, lo dico in un altro modo, la volatilità è alta e bassa, scusate, è nemica del trader, quindi se la volatilità è molto bassa per i trader non va bene. Questo è un discorso che sembra un po' così, insomma detto, ma come le manoponizioni, il mercato è maripolato, allora la volatilità eccetera, quindi ragazzi per i trader serve movimento, serve torta da mangiare, altrimenti non c'è niente da guadagnare. Però la volatilità bassa è favorevole ai trader neofiti e inesperti, quindi se state studiando, se state facendo le prime operazioni di trading, questo momento è molto buono per voi, perché meno volatilità c'è sui mercati, più si impara a gestire magari delle cose meccaniche del trading, quindi delle strategie di trading, quindi utilizzate questa fase per imparare a gestire le vostre strategie, perché quando arriva la volatilità ragazzi, quindi quando il cavallo scalpita in pratica, è più difficile se non avete le spalle forti stare sul famoso toro, insomma ve lo ricordate quel gioco degli anni 90? Io ve lo ricordo purtroppo, sono un po' con gli anni avanti, ma la similitudine è assolutamente coerente, quindi il toro quando è forte ragazzi, quando si muove velocemente, vi butta giù dalla sella. Se siete neofiti, questa fase utilizzatela per lo studio del trading, per lo studio delle vostre strategie di trading, perché è un mare calmo, e come anche i surfisti ragazzi insegnano, se dovete tirar su una vela da surf, meglio imparare a farlo durante un mare calmo. Bene ragazzi, ciao a tutti, e come sempre iscrivetevi al canale, lasciatemi i commenti su quello che pensate, noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!